Ciao e benvenuti in questo nuovo video sul mio canale YouTube, io sono Federico Murero e oggi ti parlo della rotazione delle scarpe da running. La rotazione delle scarpe perché bisogna sapere che le scarpe da running hanno una vita, quindi hanno un periodo che sia di tempo o di chilometri è uguale, è la stessa cosa, che ne limitano l'utilizzo perché queste scarpe dopo di solito 800 km per le scarpe da lento, molto meno per le scarpe da veloce come abbiamo già visto in altri video, se vuoi te li linko qua sopra con Felipe di Affari e Sport. Abbiamo analizzato appunto la differenza tra scarpe veloci e scarpe lente, come queste hanno una differente vita in termini di chilometraggio e anche di ore di allenamento, perché la mescola si schiaccia, diventa meno reattiva o meno confortevole, si iniziano a percepire un po' gli effetti della scarpa scarica, quindi un dolore muscolare che prima non si aveva quando si facevano le uscite di corsa, magari a livello del quadricipide, vasto mediale laterale o anche a livello del tricipide surale, quindi del polpaccio. Nella parte posteriore si possono accusare appunto questo tipo di problematiche e sentire questi fastidi, che possono anche essere semplicemente o a ginocchio o a caviglia, si sente un dolore idiopatico, quindi non proprio riferito a una zona specifica ed è legato appunto a quello, se non è dovuto a traumi legati all'attività sportiva. E quindi perché effettuare una rotazione delle scarpe? La rotazione delle scarpe ha senso in un'ottica di lungo periodo, perché se noi abbiamo una quantità di scarpe che possiamo usare in un lungo periodo, possiamo cambiarle, quindi il nostro piede non si adatterà solo a un tipo di scarpa, il che è molto utile anche per evitare di sovraccaricare alcuni muscoli, soprattutto a livello del piede ci sono dei muscoli molto sensibili ai cambiamenti di drop e quindi ai cambiamenti di forma della scarpa. Dunque se noi andiamo a usare delle scarpe differenti, si avranno una differente stimolazione a livello muscolare. Per fare un esempio e essere un pochettino più chiari, per quanto riguarda un anno di running, quindi 12 mesi, potremmo avere tra le 4 e le 5 paie di scarpe, no? E alcuni pensano magari di finire una scarpa e poi comprarne un'altra. In questo caso la rotazione delle scarpe prevede invece l'acquisto delle 5 scarpe, mettiamo nel periodo di gennaio, febbraio e marzo, così che si avrà una rotazione durante tutto l'anno. Il costo sarà lo stesso perché nell'arco dei 12 mesi noi avremo comprato lo stesso paio di scarpe, lo stesso numero, sempre 4 o 5. Però la differenza qual è? Noi andremo a usare più paia di scarpe in contemporanea. E questo come abbiamo visto è un vantaggio dal punto di vista sia del injury free, quindi evitare gli infortuni, ma anche dal punto di vista economico perché se noi andiamo a scaricare troppo una scarpa e continuiamo a correrci sopra, rischeremo di andare incontro a stress eccessivo e possibili infortuni che a loro volta causano l'intervento di medici, dottori, lastre. Insomma si sa quando c'è un infortunio i vari esami strumentali costano tanto e dunque è molto meglio prevenire più che curare, quindi avere più paia di scarpe permette appunto di variare un po' il nostro stimolo allenante. Io cos'è che faccio nel concreto? Ho una serie di scarpe che utilizzo, oramai sono 4 o 5 anni che lo faccio, praticamente da quando ho iniziato a fare triathlon ho subito pensato a questa rotazione che a dire il vero non ho mai sentito parlare da nessuno, non so se sia legato a un fatto personale che non ho avuto le conoscenze corrette o le persone che me l'avessero detto ma l'ho inventata un po' io per me stesso, però non penso sia un caso unico, ecco ci saranno anche molte altre persone che lo stavano già facendo prima di vedere questo video per dire. Però io dato che l'ho scoperto da solo, volevo condividerlo con chi magari non lo sapesse, la rotazione delle scarpe come abbiamo detto è molto importante. Io cosa faccio nel concreto? Ho una serie di scarpe, due paia di scarpe da lungo, due o tre paia di scarpe da veloce, le scarpe da gara e un altro paio di scarpe da gara, però questa è opzionale. Andando nel dettaglio qua vi metto le foto delle varie scarpe, i video, e ho preso Strava e vado a vedere quelli che sono le mie attrezzature, i chilometri che hanno le scarpe, quindi una funzionalità molto interessante che ha Strava è appunto quella di visualizzare l'attrezzatura nel proprio profilo e se noi ogni volta andiamo a selezionare la scarpa che abbiamo utilizzato, lo si può fare anche per le altre applicazioni sia TrainingPix ma anche Garmin Connect, andremo a vedere lo stato di usura delle componenti, che è molto utile appunto come detto per sapere tutti i chilometri che abbiamo fatto. La mia attrezzatura ad oggi prevede come scarpa da lungo le Saucony Triumph 21 e le Asics Gel Nimbus 25, queste ultime sono a fine vita e le sto intercambiando con le Triumph 21 che ho preso veramente poco tempo fa, adesso le uso per tutte le corse principali a lento, e per quanto riguarda le Gel Nimbus le uso solo in alcuni casi per andare a sovrastimolare un po' il piede e i muscoli in generale dell'arto inferiore. Perché vi dico questo? Perché comunque una scarpa scarica che ha 680 chilometri non deve essere usata come scarpa principale, perché è una scarpa che potenzialmente può esporvi al rischio infortuni, quindi quello che io faccio in questo caso è alternarla, quindi usare soprattutto la Triumph 21 per tutte le long run, mentre quando lo decido vado a sovrastimolare il piede e usare una scarpa un po' più scarica, che ha come risultato un maggiore coinvolgimento muscolare. Per quanto riguarda le scarpe da veloce, ho le Puma Deviate Nitro 2, che sono anche queste abbastanza recenti e le sto usando principalmente. Per quanto riguarda le altre due scarpe, sono le Saucony Ride 15 e le 16. Le 15 hanno 650 chilometri, quindi sono veramente a fine vita. Queste le sto anche alternando con le altre due scarpe precedenti per fare qualche lento, perché quando si scaricano così tanto non sono più reattive e è un po' rischioso andare a usarle nei lavori. Come abbiamo visto prima, si può andare a sovrastimolare a livello muscolare il nostro sistema, però c'è un dettaglio, nelle scarpe da veloce io starei molto più attento, perché le forze di taglio e anche le forze in generale sono molto più importanti. Noi aumentando il passo aumentiamo la produzione di forza e quindi anche l'impatto che si avrà sul terreno sarà molto più importante. Dunque vi invito a fare attenzione, a evitare di usare delle scarpe scariche durante i lavori di velocità o anche al medio. Poi per quanto riguarda le scarpe da gara o le Puma Cara 5, che sono quelle per i cross, scarpe chiodate in realtà queste sono le uniche scarpe che possiamo prendere e fino a quando non si disfa la tomaia le possiamo tenere fino proprio alla fine della loro vita, perché essendo chiodate da cross non hanno un potere ammortizzante, hanno solo dei chiodi che possono essere cambiati tra dei chiodi da 6 o dei chiodi da 12 in base alle condizioni e queste appunto non hanno problemi. Per quanto riguarda le scarpe da gara nel triathlon uso le Asics Metaspeed Sky Plus, che sono le scarpe che uso con il carbonio per la maggior parte della stagione, e invece le Asics Magic Speed che hanno la piastra in teflon. Le uso principalmente nei cross e nelle gare diciamo di fascia inferiore, per evitare di andare a usare troppo le Metaspeed Sky Plus, che sono scarpe estremamente reattive e però come ben sappiamo hanno un chilometraggio limitato, quindi sulle scarpe da gara, se potete anche qui usate due paie di scarpe, perché potrete andare a scegliere le scarpe più prestative per quanto riguarda le gare più importanti, le gare obiettivo della stagione, e invece le scarpe un pochettino meno racing, ma comunque prestative per le altre gare, quelle che sono tutte le gare di contorno. Vorrei andare a analizzare in secondo piano in questo video quelle che sono le scarpe di smesse, quindi noi quando finiamo un paio di scarpe, quando arriviamo a 700-800 km, le smettiamo, e cosa succede? Io ce le ho tutte in cantina, non le ho ancora buttate, non so sinceramente cosa farmene, però ce le ho tutte qui, adesso vi elenco tutte le scarpe, e una cosa che vi invito a controllare è l'usura della scarpa, perché questa ci darà un'indicazione riguardo come abbiamo sfruttato quel tipo di scarpa, e come appoggiamo il piede al terreno, quindi sono delle informazioni importanti, utili anche per comprare il nostro successivo paio di scarpe. Adesso analizziamo quelle che sono le scarpe da me dismesse nel corso degli anni, io faccio triathlon oramai da più di 5 anni, quindi le scarpe sono veramente tante, perché i chilometri sono veramente tanti a piedi, e dunque iniziamo la lista, lunga lista. Le mie scarpe da gara, le mie vecchie Nike Zoomfly, hanno solo 190 km, perché le ho comprate quando ero ancora 16enne, e quindi mi è cresciuto il piede e purtroppo non le ho usate più di tanto. Le ho usate in realtà nella prima fase della mia carriera da triathlon, nel primo anno per quanto riguarda le gare. Queste erano le mie prime scarpe da gara, e mi ricordo che erano abbastanza reattive, mi trovavo abbastanza bene. L'unica cosa, con Nike in generale, la pianta del piede è stretta, quindi per me che ho il piede stretto va bene, però per le scarpe da gara mi sono sempre trovato male, perché sulla parte posteriore del tenis d'Achille, mi si formava una vescica, e a ogni gara avevo questo problema, che per fortuna non ho più, avendo cambiato modello di scarpe. Passando per le Brooks Adrenaline GTS 18, queste sono state le mie prime scarpe da lento, sono delle scarpe veramente molto solide, e mi ricordo che con queste ho fatto tantissimi chilometri. Per poi passare alle New Balance Fresh Foam 1080, anche queste, delle belle scarpe, con cui si fanno tanti chilometri. Le Nike Vomero 14, queste le usavo per le ripetute in pista. Le Asics Tokyo, le Nova Blast di prima generazione, queste erano delle belle scarpe, che ho usato fino a due anni fa, se non sbaglio. Mi trovavo veramente bene. Poi le Trashensei, queste erano un paio di scarpe veramente toste, sono le Brooks in generale, io mi sono trovato benissimo in tutti gli anni che le ho prese, hanno fatto il loro mestiere più che degnamente. Hanno una tomaia che è indistruttibile, e anche in generale il comfort è veramente alto. Poi Asics Gel Nimbus 24, queste sono le scarpe che avevo fino all'anno scorso, veramente comode, poi sono cambiate perché le scarpe stanno cambiando velocemente, sia le loro forme che il nome, perché adesso la Gel Nimbus 24, se andiamo a vederla rispetto alla 25, è completamente differente. Passando alle Oka One One Arani, queste qua sono delle scarpe da lento, che avevo usato tre anni fa. Mi ero trovato bene, bisogna fare attenzione a una cosa. Queste scarpe qui sono delle scarpe da pronatore, io però non sono pronatore, me le avevano vendute come delle buone scarpe all round, che però non erano adatte a me, io l'ho scoperto solo dopo, quando le ho usate per un po' di tempo, ho detto ma mi trovavo bene, non c'è problema perché se sei un supinatore, in realtà l'antipronazione non cambia niente, però è un dato di fatto, bisogna fare attenzione a chi ci vende le scarpe, che sia insomma un professionista, e non uno un po' campato per aria. Io ero andato in un negozio che era differente da quello a cui andavo di solito, e mi sono trovato un tizio che non era proprio espertissimo. Stiamo arrivando alla fine, per quanto riguarda le scarpe da veloce avevo un altro paio di Zoom Vomero 14, anche queste le ho usate in alternativa alle precedenti, per quanto riguarda i miei primi due o tre anni di carriera sportiva, ecco quindi sono delle scarpe che oramai non sono più in commercio, e come ultima scarpa, anche qui questa l'ho usata tre anni fa, l'Asix Nova Blast Platinum, una scarpa buona, come abbiamo visto prima anche la Tokyo era sempre lo stesso modello, mi ero trovato bene, quindi ho ripreso lo stesso paio. Qui si può fare una nota, ci si può ricomprare lo stesso paio, se appunto nella rotazione si ha un altro tipo di scarpa, perché io usavo in rotazione le Brooks con le Nova Blast. Quindi avendo una rotazione si può fare questo tipo di operazione, se ci troviamo bene con un paio di scarpe, possiamo ricomprarle, a patto che abbiamo sempre due paio di scarpe un po' differenti, che vadano a stimolare in modo diverso il nostro piede. E dunque siamo arrivati alla conclusione di questo video, se ti è risultato utile e non sapevi cosa fosse la rotazione delle scarpe e perché andasse fatta, fammelo sapere nei commenti, condividi il video con i tuoi amici, iscriviti perché è gratis, e noi ci vediamo al prossimo video, come sempre, fai buoni allenamenti, ciao!